...con un attore, quindi la stessa giornata e la stessa mese della data di nascita di Sette Leglie. Un'altra particolarità che dobbiamo ricordare è la... ci sono due iscrizioni, due latini, la prima posizionata dalla regina Margherita in ricordo della prima moglie Margherita Barezzi e dei figli di Somparsi e la seconda, che è qua sotto, che ricorda Teresa Stolza. Teresa Stolza, lei si colgna la parte decorativa, grande amica, grande amica, grande amica e grande amica. Per cui si assolga le sue donne.